L'ultimo incontro che ha avuto luogo nella giornata odierna è stato con il Comitato Mafia, Giornalismo e Mondo dell'Informazione, che di fatto è un sottocomitato della Commissione Antimafia, a capo del quale troviamo Walter Verini. Ringraziamo il Dottor Verini per l'opportunità che ci ha dato, soprattutto perché assieme a lui abbiamo potuto affrontare alcuni discorsi come le minacce che vengono rivolte ai giornalisti in particolar modo provenienti dal mondo della criminalità organizzata. Senza ombra di dubbio, uno degli argomenti più importanti che sono stati affrontati nella riunione odierna ha avuto a che fare con il Centro di Coordinamento sugli Atti Intimidatori, che è un centro che risponde direttamente al Ministero degli Interni. Nasce da una collaborazione che vede coinvolti sia le forze di polizia che la comunità giornalistica. Ma quello che abbiamo voluto sottolineare nel corso della riunione odierna è stata soprattutto la nostra preoccupazione in termini di mancanza di indipendenza da un punto di vista politico. E ci ha sorpreso particolarmente notare come, apprendere come il Dottor Verini, non manifesti alcun tipo di preoccupazione in tal senso. Senza dubbio vi è bisogno di soluzioni che siano di carattere politico, quindi di misure da adottare sul piano politico e a tale riguardo il Dottor Verini ha sottolineato anche l'importanza della solidarietà, una solidarietà che deve intercorrere tra gli stessi giornalisti e che è fondamentale che deve aggiungersi poi a tutta una serie di misure che devono essere prese sul piano legale. Grazie a tutti.